ciao ciao a tutti si chiede saprendere a nadar tirate in una biletta che significa se vuoi imparare a nuotare buttati in piscina era la frase che usava spesso il mio amico buonanima dimitri di mo per affrontare una sfida molto importante dove tu hai paura ed è quella che io ho pensato e mi ha ispirato tre anni fa quando ho fatto il tedx a modena la volevo condividere oggi con voi augurandovi buon mercoledì vi lascio il link dei commenti per chi non avesse ancora visto il tedx concentrazione concentrati in azione